Ainge è il marchio sportivo di casa Mercedes che da 45 anni rende ancora più esclusive e sportive praticamente tutte le vetture Mercedes ad esclusione delle compatte almeno fino ad oggi. Nasce come sviluppo di propulsori e arriva alla sua migliore espressione oggi con l'SLS, nella versione Coupé Roaster che è la prima vettura in assoluto completamente progettata dal Marchand 2. Indubbiamente l'elettronica è molto importante in ogni situazione di marcia e la Inged Running Academy aiuta proprio a vivere a bordo e guidare con maggior consapevolezza tutta questa potenza, per riuscire a gestirla non è facile, l'elettronica in questo ci aiuta in ogni situazione di marcia e qui a Livigno lo proviamo su ghiaccio e neve per esempio. Indubbiamente la Inged Running Academy è aperta sia ai clienti, fra l'altro il corso base viene offerto gratuitamente a chi acquista una vettura Indubbiamente con il performance package, praticamente la metà dei clienti in Italia, ma soprattutto è aperta a tutti gli amanti di guida sportiva, tutti gli amanti dell'automobile che in Italia ancora oggi esistono in Italia. Indubbiamente la Inged view è stata una quinta in cui chiara un altro indubbiamente l'editronica in Italia. Indubbiamente l'elettronica è stata un'altezza, è stata un'altezza. Indubbiamente la Inged Union è riuscito a tutti gli amanti Sunni, più solo, più ovviamente là ogni clienti, non c'è parte di più, ovviamente la IngedUniversità è stata una delle qualità miglieze, più oltre a tutti i amanti che ci sono dei bieni, più oltre a tutti gli amanti in Italia. Quindi è ancora un'altezza, quindi è molto più interessante,